la prova di italiano è stata una giornata pazzesca tanto eravamo su una location bellissima sono andati su probabilmente nel giorno più freddo di tutto l'inverno californiano c'era un vento allucinante faceva freddo rispetto a qui ma a casa poteva essere una tranquilla giornata di settembre I mean on camera it looked like it was so beautiful everything was so green and but the weather wasn't good man ok guys so now it's time to learn Italian I first expected them to be having like a drawing contest because they had like an easel set out we will ask one of you to come here and we're gonna tell you a sentence and you are gonna write it down and read a big marker and if it comes out red you're the first oh yeah pick up a marker yeah oh it's on whoa what what Suzy you are hey Suzy all right let's learn some Italian 45 50 degrees it was so cold up there it was like basically torture while we had to sit and get an Italian lesson what should we say to Suzy you have to surprise the guy ciao bellissimo say molto simpatico one word at a time and we're gonna make okay so I couldn't feel my fingers or my toes so I couldn't even concentrate on an Italian lesson ciao bellissimo 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 E' also the language of... And, I don't know, I could have done better on that one, but I'm just not familiar with the pronunciation of certain Italian words. I'm more familiar with Spanish words than Southern California girl. Thank you very much. Thank you. A guy this time. Yeah, a guy. Dave. Dave. The next day, I was on top of a mountain, learning how to speak Italian. What should we say to our friend Dave? Ciao dolgissima. Ciao dolgissima, give me qualcosa. I did not bring a warm enough jacket. Ciao. Ciao. Dolgissima. Glowing in the wind. Yeah. Dolgissima, baby. Yeah. You play in the band Ex-Gentlemen. Yeah. This is a really gentleman thing to say. Yeah. Hello, sweetie. Would you like to drink something? We were being taught Italian, like writing it, speaking it, because obviously that's going to come into play. That's pretty important. Can you read it? Ciao dolgissima, baby qualcosa. Grandissimo, Dave. Can you say it without reading? Ciao dolgissima, baby qualcosa. Yeah. Perfect. They're really good. I had that down. I feel pretty good about it. I think I had an advantage over other people with that. Jen, it's your turn now. Dave killed it. Dave, I think Dave is secretly Italian, so he knows a little too much for his own good. Hi, Jen. Nice jacket. Nice jacket. Twins. Yeah. Freezing ass. Pretty miserable morning. If you saw us there, you'd be laughing, because we were just all sitting together really close to each other and just keeping warm. Ciao, bello. Sei molto carino. Ciao, bello. Hi. Beauty. You are so cute. I'm willing and totally ready to learn Italian. Ciao, bello. Yeah, it taught us how to say a few things in Italian to maybe woo an Italian lover or take someone out on a date. Can you read this for us, please? Ciao, bello. De molto carino. It's more. Carino. Carino. Ciao, bello. De molto carino. De molto carino. Maybe I don't think I did so well on that challenge. Rio. Caliente. Are you ready? I'm ready. Yeah. Man, day two was rough. This was something I didn't sign up for. Rio, he said the best M&D, the biggest Cavanova. Of all the time. Yes. Elegante, but simpatica. That's good. Elegante, but simpatica. Maybe bring a rose to the girl? For sure. It was freezing. It was so cold and then it was so windy. We were sitting together. We just couldn't move and we were just waiting to take the shoot and get out of there. Ciao. Amore. Straight. Ciao, amore. Yeah. Ciao, amore. No pain, no gain. Questa rosa. Ciao, amore. Questa rosa. Sì. 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 Bravo, amore. Grande. E abbiamo avuto delle sorprese perché pensavamo veramente, soprattutto sulla prova scritta, che scrivessero delle robe allucinanti. Invece, per esempio, il ciao, quelle robe l'hanno scritto tutti praticamente giusto. Sì. 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 And the other person would fall in love with you completely. I'll first step is learning… this is the chorus, ok? If you would come here one at a time, or you can sit there? Yeah. Sì, is that cool? I can stay right here. Sì. I think it's cool, eh? This order. Leo will read the green line, Dave the black line, the blue line, Teusi the red line. Are you ready, Leo? Sì, of course. avevamo il cervello congelato per cui si sono riusciti a reagire bene in questa situazione, vuol dire che sono ragazzi intelligenti DRA QUANDO CHE TI HO VITSO Dave? SUBARRIOTTO DEL MASCHIO HO CAPITO CHE TU MI PIACE MOTTO YEAH! L'unica cosa che c'è, la pronuncia giusta è CHE HO CAPITO CHE BOTTO DEL MASCHIO MAESTRO, CHE, BRAMAZZA DRA QUANDO CHE TI HO VITTO SUBARRIOTTO DEL MASCHIO HO CAPITO CHE TU MI PIACE MOTTO ok, molto semplice DRA QUANDO CHE TI HO VITTO SUBARRIOTTO DEL MASCHIO HO CAPITO CHE TU MI PIACE MOTTO ANOTHER TIME DRA QUANDO CHE TI HO VITTO SUBARRIOTTO DEL MASCHIO HO CAPITO CHE TU MI PIACE MOTTO OK, THAT WAS GOOD! YEAH! YEAH! Sono stato sorpreso di come alcuni dei ragazzi hanno veramente fatto bene sia a livello di pronuncia che a livello di apprendimento di lettura di quello che avevamo scritto I THINK THAT WOULD TAKE ME A LITTLE BIT LONGER TO GET USED TO SAYING THAT SORT OF STUFF THAT MIGHT'A PUT ME BEHIND A LITTLE BIT SORTAI TUTTI MOTO BLAVI IN DELTA E PENSAVO CHE NON RUCISSERO A SCRIVERE QUALCHE ERRORINO VABE NINTA DI PARTICOLARE I WAS LUCKY ON THAT ONE BECAUSE I ACTUALLY KNOW HOW TO SPEAK SOME ITALIAN MY MOTHER'S SIDE OF THE FAMILY IS ITALIAN AND I HAD TO TAKE ITALIAN LESSONS NOT SOMETHING I WANT TO DO AGAIN I LIKE THE COMFORTS OF A WARM CLASSROOM AND I'M TOTALLY READY AND WILLING TO LEARN ITALIAN BUT YEAH, I DON'T KNOW HOW WELL I DID ON THAT NOI STAVAMO SCRIVENDO LE FRASI ROBA A CERTO PUNTO CI SIAM GIRATI ERANNO TUTTI CONGELATI PRATICALLY E ABBIAMO IMPOSTATO LE COSE PER LA PROVA SUCCESSIVA Come andate, asciutta oggi? Dai dai Freddo Freddo Pazzesco Grazie, grazie mille Evviva Bello, bellissimo Stadio LA, Downtown È stata una bella prova Sì, ho visto i sofferenti No pain, no gain, però aereo Giusto Non era mica facile per loro così a freddo Ma se siamo in America che vuoi dire watch it a fine frase E poi dire aereo Guardalo Indubbiamente Dave è stato il migliore di tutti Sento che mi so stupio che ha scritto tutti ciao subito al primo colpo Dietro le quinte dell'intervista a Rocco Eroico dove hai detto ciao Ah, quando si è scritto sulla mano? Si, aveva scritto sulla mano e aveva scritto C-H-O-U Ciao Sì, Dave è stato proprio quello più veloce Diamo a lui la vittoria? Beh, possiamo aggiudicarlo Sì Intanto a me mi sta anche simpatico Dave perché E lui? Sai cosa che fanno fare? Che fanno fare l'imitazione di Celentano come Thomas Mimo Grandissimo Sì Ecco Grazie a tutti